Gentili telespettatori, buona giornata, Fratelli d'Italia, primo partito in Abruzzo. Al momento della registrazione di questo video, quindi sono le 5 di notte, poi ovviamente più avanti le percentuali assolutamente potranno cambiare, ma in questo momento della registrazione del video, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, è al 23,55%, il secondo partito è il PD con il 20,55%, segue Forza Italia con un valore molto alto, il 13,52%, e poi c'è un valore molto alto anche della Lega Salvini-Abruzzo con il 9,11%, per cento poi la lista Marsilio-Presidente 5,43%, noi moderati 2,82%, Unione di Centro-Democrazia Cristiana 1,02%, mentre dall'altra parte, a sinistra, Abruzzo-Insieme 8,34%, Movimento 5 Stelle 6,16%, Azione d'Amico-Socialisti Popolari-Riformatori 3,96%, Alleanza Verdi-Sinistra-Abruzzo-Progressiste-Solidale 3,58%, Riformisti Civici 1,96%, e vediamo praticamente il Movimento 5 Stelle quasi inesistente. Grazie a tutti e arrivederci a presto.